I 5 Stelle che ci criticano consiglio ogni tanto di fare qualche congresso e di evitare di prendere ordini dalla Casaleggio e Associati, che è una straordinaria società di consulenza, che io stimo, se fossi un imprenditore gli chiederei certamente una consulenza molto molto seria, ma questa è politica e della vita dei cittadini ed è opportuno governare questi fenomeni rispettando i principi più elementari di democrazia.